È divenuto suo malgrado un'attrazione il tiglio dei giardini di piazza 40 Martiri a Gubbio crollato a terra sotto le folate di vento che hanno colpito Gubbio una settimana fa. Malgrado il divieto di ingresso all'area dei giardini con tanto di transenne e strisce non erano pochi quelli che sono entrati per la classica foto e selfie. La zona è oggetto di monitoraggio in queste ore tanto da annullare per domani mattina anche il classico mercato settimanale del martedì in attesa di capire dagli esperti quali interventi adottare su altre piante del giardino. In attesa del risponso c'è la nota del presidente della sezione locale d'Italia Nostra Ubalde Emanuele Scavizzi inviata a comune sovrintendenza dell'Umbria carabinieri forestali comunità montane regione in cui si ricorda che i giardini di piazza 40 Martiri sono un complesso ottocentesco soggetto a tutela. Scavizzi fa notare come le condizioni della pianta ultracentenaria fossero già critiche soggetta ad attacco fungineo situazione da cui prende spunto per denunciare incuria degli stessi giardini e auspicare in futuro interventi su questa zona curati e diretti da personale altamente qualificato in materia botanica e con esperienza curricolare in merito ai giardini storici il tutto sotto la direzione di un architetto e della sovrintendenza. Scavizzi auspica che l'evento che ha coinvolto un solo esemplare non venga preso a pretesto per eliminare tutti gli esemplari monumentali di rilievo presenti nel giardino. lancia quindi la proposta di recuperare le parti sane del tronco del tiglio caduto un esemplare con una circonferenza di circa 4 metri per la realizzazione di beni e manufatti di pubblico interesse sarebbe anche questo un modo per farlo continuare a vivere.